... ... ... ... ... E allora? Non c'è niente il tuo carico, sei incensurato. Vabbè, meno male. E adesso cosa succede? Abbiamo comunicato i dati a tutte le questure e se hanno denunciato la tua scomparsa... Ora si va all'ospedale. Sì? Ma qui come funzionano le cose? E qui se tu ci dai il nome, cognome, data di nascita, indirizzo, oppure viene con un documento, ti sappiamo dire esattamente chi sei. Forse l'unica cosa è andare a Lourdes.